La democrazia moderna è nata dalla concezione ottimistica sull'umanità degli illuministi, dalla credenza che l'uomo fosse naturalmente buono e capace di intendere quello che è il suo vero bene, che gli interessi dei singoli naturalmente coincidessero con l'interesse della collettività, che il popolo chiamato a scegliere i suoi rappresentanti al governo sapesse e volesse scegliere i migliori. Ma noi non abbiamo più queste illusioni. Abbiamo visto vivere in pratica la democrazia che i nostri nonni vedevano soltanto nel cielo rosato della speranza. Sappiamo come si fabbrica la volontà popolare. Ricordiamo le folle oceaniche, acclamanti, il duce nelle piazze, la votazione plebiscitaria della SAR in favore del Führer, gennaio 1935, il comportamento delle grandi democrazie di fronte alla guerra civile in Spagna, all'impresa di Albissinia, alle crisi di Monaco, la crisi la lista degli uomini che l'elettorato inglese ha messo a capo del più grande impero del mondo degli ultimi 30 anni, McDonald, Baldwin, Chamberlain, Atlee. Perché ti ricandidi? Perché continuo a chiedere molto nella politica, perché so che è abbastanza fuori moda e sono molto fiero di aver rappresentato i cittadini lombardi all'interno del Consiglio regionale, anche se è il luogo col più alto tasso di criminalità organizzata degli ultimi anni, Lombardia. Perché la Lombardia è la più alta forma d'arte, perché i cittadini disinteressati alla politica, come dice Pericle, sono inutili alla democrazia, perché in questi due anni e mezzo abbiamo assistito, spero anche in piccola parte di aver contribuito allo sgretolamento del formigonismo, mi piacerebbe vedere cosa è possibile fare senza di lui. Non credo di essere troppo pessimista, affermando che in nessun paese democratico, laboriosi e costosi procedimenti per mettere assieme in un'assemblea i migliori rappresentanti del popolo danno risultati più soddisfacenti di quelli che sarebbero conseguibili con le stazioni a sorte. Se, per un gioco di magia, i deputati fossero da momento all'altro sostituiti da altrettante persone, prese a caso in un'ora di punta all'uscita della stazione, il livello morale e intellettuale della rappresentanza in Parlamento non ne risulterebbe abbassato, né l'attività legislativa peggiorerebbe. Basterebbe escludere gli analfabeti, i minorenni e gli invalidi. Pensi veramente che istituzioni elette a caso potrebbero funzionare meglio di quelle votate dai cittadini? No, non sono così perbolico, però penso che la politica abbia giocato e giochi ancora adesso, soprattutto nelle sue classi dirigenti, ma lo fa la politica, ma lo fa anche un certo tipo di intelligenza, gioca ad evitare che si creino chiavi di lettura collettive e quindi quello che noi pensiamo che sia uno spirito di delega in realtà è un allontanamento, un tenere le distanze da parte di chi cura ed è molto preoccupato della propria autopreservazione e quindi gli interessa che tutto sembri terribilmente difficile. E' molto più semplice di quello che sembra. A proposito di relazione, partecipazione e risposte, nel 2011 hai fatto un'interrogazione a risposta diretta chiedendo all'assessore alla cultura Buscemi che fine aveva fatto il fondo unico regionale per lo spettacolo. Che fine ha fatto? Non sembra essere stato mai attivato dall'esterno, guardando dall'esterno? Beh, allora guarda c'è un problema, tutti noi pensiamo che la nostra classe politica, soprattutto in regione Lombardia, sia stata carente dal punto di vista dell'etica e della legalità, ma in realtà noi abbiamo avuto una classe politica che dal punto di vista culturale non ha avuto le corde, la sensibilità normodotata di poter legiferare in questo senso. Basti pensare che l'assessore alla cultura aveva il merito di essere il cognato di Dacò e questo racconta quanto conti la cultura, no? E' stato parcheggiato nell'assessorato in cui poteva fare meno danni. Ricordo una frase dell'assessore Buscemi, quel giorno durante l'interrogazione scese e mi disse, guarda cavalli se io avesse un po' di dignità mi sarei già dimesso. E quindi dentro questa frase ci sono due valutazioni sue personali, su se stesso e sulla cultura. Il fondo unico è sparito, ma in realtà è sparita la cultura se ci pensi completamente, nel senso che viene sempre scritta nei programmi elettorali e poi non viene mai esercitata. Siccome io credo nella semplicità, anche se molto fantasiosa della bella politica, le priorità nella politica si vedono in un modo molto semplice da valutare che sono i capitoli di bilancio. Noi abbiamo avuto una regione Lombardia che sulla cultura ha usato la cultura come il sacchetto dell'umido, il percolato del divertimento. Ciò che avanzava dalle sagre andava a finire nella cultura. E quindi mi sembra anche evidente capire esattamente che cosa bisognerebbe fare. Nelle democrazie moderne il successo dei partiti politici dipende essenzialmente dall'efficienza della loro macchina. E l'efficienza della macchina dipende essenzialmente dai quattrini disponibili. La stampa dei giornali, l'affitto dei locali, gli stipendi degli impiegati, la fissione dei manifesti, l'organizzazione dei congressi, automobili, viaggi, posta, inghiottano parecchi milioni ogni mese, anche quando si tratta di tenere in piedi il più piccolo partitino. C'è un aspetto che è quello dell'interlocuzione, cioè se ci sono degli attori forti da parte di quella che possiamo chiamare società civile si può fare un'azione di pressione che in qualche modo contrasti questi fenomeni che tu descrivi. Una domanda è perché Agis è l'unica interlocutrice della regione in materia di spettacolo e si tratta secondo te di monopolio e se è un monopolio lo si può rompere in qualche modo? Perché gli operatori culturali, mi ci metto dentro anch'io, non sanno fare massa critica. Del resto sai, noi artisti al mattino ci svegliamo e ci chiediamo come stiamo e basta, questo è l'unico momento di infrastrutture sociali della giornata. E quindi cosa succede? Succede che molto spesso si soccombe di fronte a degli organi che vengono venduti come organi di rappresentanza ma non hanno le capacità per poter rappresentare. Io infatti molto spesso mi capita di dire che la classe dirigente di questa regione non è solo la giunta, ma la classe dirigente di questa regione sono anche le rappresentanze di categoria, vale anche per la cultura, sono quelli che hanno la possibilità di avere un ruolo di interlocuzione forte. Io credo che l'Agis ogni tanto sia caduta nell'errore, sempre abbastanza spiacevole, di essere solidale solo con i sodali, che è una solidarietà molto pervertita. All'inizio del 2012 tu e Pippo Civati avete raccolto oltre 1300 firme contro l'azzeramento dei fondi alla cultura da parte dell'assessorato del suddetto di Scemi, che fino hanno fatto quelle firme e qual è stato l'esito di quella petizione, se c'è stato un esito? No, effettivamente la questione è entrata in giunta ed è entrata nella discussione del bilancio, poi la caduta di Formigoni ha accelerato la fase terminale. Forse per la prima volta siamo riusciti a rimettere l'accento sulla cultura, nel senso che quando si fa massa critica anche coloro che di cultura non si sono mai occupati capiscono almeno che può essere un bacino di consenso, un po' triste però funziona purtroppo in politica. Noi eravamo riusciti a riaprire il confronto su questo punto, la cosa che continuano a dirci è che non ci sono soldi per la cultura, la cosa che io mi ostino a dire e per cui mi batterò anche in caso di Vittorio e di Ambrosoli è che cultura in Lombardia significa produttività, cultura in Lombardia ha un forte senso, una forte accezione di artigianato e che poi non riesco a capire come una cascata di soldi come è Expo, con un tema così aperto come può essere quello di nutrire il pianeta, non debba riservare al posto di costruire magari un capannone in meno, un capitolo del suo bilancio per attività di spettacolo e di cultura. E nutrire la testa magari. E nutrire la testa anche oltre che il pianeta. C'è un progetto di Fondazione Cariplo che si chiama Progetto Etre, come lo valuti se lo conosci e secondo te poi esiste una regolamentazione regionale delle residenze per lo spettacolo e come la immagineresti? Lo conosco perché ci sono dentro, quindi la mia associazione è una delle associazioni partecipanti al progetto. Mi do una valutazione assolutamente positiva, l'importante è che abbia uno sbocco legislativo. Il progetto Etre è un progetto con cui Fondazione Cariplo con un piano pluriannale vuole facilitare l'insediamento di attività di spettacolo e attività produttive all'interno di uno spazio che diventi quindi residenza e non solo luogo di messa in scena. Il progetto secondo me è abbastanza ambizioso e tra l'altro riprende un po' di quelle che sono le realtà pugliesi ad esempio che hanno dato molto slancio in campo teatrale. È un ottimo progetto, deve avere uno sbocco legislativo, noi abbiamo una legge sullo spettacolo che ancora una volta veramente è lontana anni luce da quelle che sono le realtà, noi abbiamo una legislazione regionale che manca proprio di modernità e quindi si parla tutti di progresso, a noi basterebbe almeno metterci a pari coi tempi. Quindi credo che una legislazione si debba per forza fare, noi stavamo già discutendo in Commissione Cultura, tra l'altro anche con un certo interesse anche da parte della maggioranza. Non bisogna fare l'errore però di pensare che la questione residenza sia una questione perfettamente teatrale, ogni tanto si incorrano, parliamo tutti di interculturalità e poi noi operatori spesso non riusciamo neanche a essere interculturali nell'approccio e quindi mi piacerebbe che la questione di residenza sia una questione in cui rientrino compagnie di danza ma rientrano anche tutti i componenti di arti visive, cioè la stanzialità funziona se riesce a favorire e a facilitare secondo me il viaggio e l'esplorazione creativa, se invece diventa una stanzialità che poi rimane semplicemente come una sorta di residenza di comodo, secondo me non può portare grandi risultati. Sono convinto che in questa legislatura sicuramente questa legge si porti a casa, perché ormai è assolutamente sentita. Un po' appello al voto? Ah, io non faccio appello al voto, guarda, se non vi convinco non votatemi di solito, io dico, lo sto dicendo anche a Ambrosoli, o noi decidiamo di rinunciare a dei voti e allora riusciremo a governare e quindi abbiamo solo bisogno di voti convinti. L'importante, ecco, questo sì, credo che sia importante votare e soprattutto, visto che ci siamo lamentati tanto della legge nazionale del Porcellum, sapere che il primo modo per rivendicare l'utilizzo delle preferenze è metterla in campagna elettorale, in fase di voto.